ciao ragazzi guardate chi c'è Giacomo io sono andato via dall'officina ma lui non si è demoralizzato dice andato via Mire e che si mette a fare a pulire la marmitta fai vedere vai ma l'impegno l'impegno che si mette va così a come era così da Mire e Giacomo è tutto ciao ragazzi